Amici rossonieri, tempo di terza amichevole precampionato, squadra in campo alle 19 a Klagenfurt contro il Bolsberger, formazione austriaca che nella prossima stragione affronterà la Conference League. Dopo il pranzo per la squadra qui nell'hotel che negli ultimi giorni è ospitata nel ritiro di Villac, merenda, riunione tecnica e partenza verso lo stadio. Anche oggi noi vi portiamo con noi. Andiamo! Stadion Klagenfurt, la casa dell'Austria Klagenfurt. Un impianto riammodernato per gli europei di Austria e Svizzera del 2008. Può contenere fino a 30.000 spettatori, quelli presenti l'anno scorso, l'8 agosto del 2021. Sì, perché noi siamo già stati qui esattamente un anno fa. Milan-Real Madrid 0-0, la prima da titolare di Olivier Giroud, il super Mike Mignon, che proprio in questa porta però rigore decisivo a Gareth Bale. Sì, perché noi siamo già stati qui esattamente un anno fa. È tempo di riscaldamento, è tempo soprattutto di formazioni. È la prima da titolare per tanti a partire dalla difesa, titolare che ci ha condotto allo scudetto. Megliani in porta, Calabria, Calulu, Tomori e Teo a centrocampo, Bennazere, Krunic, Salem Ekerz, Adlida trequartista e Leao alle spalle di Ante Rebic con un turno di riposo per Olivier Giroud. Grazie a tutti. Leao sulla corsa, incolla il pallone al piede, poi così con lo scavino. mette dentro il gol dell'1-0, minuto 39, il gol è di un Rafa Leao straordinario. Gol bellissimo. Adli cross dentro e arriva un altro assist per Adli. Arriva il primo gol di questa pre-season per Ante Rebic. Bennazere, Salem Ekerz di prima, pallone che rimane lì ma arriva sempre prima di tutti. Teo Hernández in mezzo per il gol di Junior Messias che chiude sul secondo palo. Wolfsberger zero, Milan tre. Qui recupera palla. Rebic, Messias, ancora Rebic mette a centro area per Salem Ekerz. Salvataggio sulla linea e arriva il gol di Adli. Al minuto 60, al primo gol con la maglia rossonera. Lazetich ci arriva per poco, Balloturé controlla e poi rimette a centro area dove arriva il quinto gol di Matteo Gabbia che realizza il secondo gol di questa pre-season. Il primo gol con la fascia di capitano. Milan 5, Wolfsberger zero. Avevamo parlato di quella porta e di prime volte nel pre-partita. Proprio lì è arrivato il primo gol di Yasin Adli con la maglia del Milan. Finisce 5 a 0, tante buone indicazioni per Mr. Pioni dall'amichevole odierna. Nel primo tempo alle reti di un super Rafa Leao e di Ante Rebic. Nel secondo tempo il 3 a 0 di Junior Messias, il 4 a 0 proprio di Adli. Che ha firmato anche l'assist per il gol di Rebic. E chiude Matteo Gabbia che negli ultimi minuti di gioco ha indossato anche la fascia di capitano. Junior, l'impressione è che state mettendo sempre più la benzina nelle gambe, state trovando la condizione migliore. Oggi è arrivato anche un risultato importante, una buona partita. Sì, sì, oggi era importante sia il risultato che la prestazione, visto l'ultima partita che abbiamo fatto. Oggi era veramente importante vincere e convincere, secondo me l'abbiamo fatto. Adli, Bacario Po, Magliana e Saremecas. Adli, Bacario Po. Adli, Bacario Po, Magliana e Saremecas. Grazie a tutti.